Oggi, in previsione dell'arrivo dell'estate, voglio parlarvi di un integratore alimentare preparatore per l'abbronzatura, Inneov Soler. Inneov è una formula innovativa a base di lactobacillus LA1 beta carotene licopene che è un antiossidante di origine naturale. Il prodotto è indicato per pelli chiare, per pelli altamente sensibili, quindi soggetti ad eritemi solari, anche per persone che hanno pelli più scure e vogliono semplicemente un'abbronzatura perfetta, uniforme e più duratura nel tempo. Come va utilizzato il prodotto? Nella confezione sono presenti 30 capsule da utilizzare, una al giorno con abbondante bicchiere d'acqua. L'assunzione va effettuata 4 settimane prima dell'esposizione solare, durante tutto il periodo dell'esposizione e perché no anche dopo l'esposizione. L'integratore ovviamente va utilizzato come complemento all'utilizzo delle indispensabili creme solari e ad un comportamento prudente nei confronti dell'esposizione al sole. Vi auguro una buona estate, ci vediamo a settembre abbronzadissimi!